Pensiero del giorno. Ho pazienza con me stesso e con i miei progressi. Riconosco dove sono arrivato e quanto ho imparato. E lo rispetto. Affido ogni paura o preoccupazione a Dio e agli angeli, rilassandomi nella piena fiducia che tutto procede secondo il progetto divino. Sei paziente con te stesso. Simile al processo di esprimere compassione con te stesso è quello di essere paziente con te stesso. Nessuno si aspetta che un neonato cominci immediatamente a camminare. Il progresso di un bambino è graduale ma costante e lo stesso vale per la tua crescita. Ti ricordiamo di goderti la strada che stai percorrendo oggi, anche se ti sembra che ci voglia più tempo di quanto vorresti. Con la pazienza arriva il progresso. Questo atteggiamento aperto e rilassato, unito alla fiducia, viene sempre ricompensato. Affida ai nuovi angeli ogni preoccupazione riguardo alla tempistica dei tuoi progressi. Concentrati completamente sui passi che devi compiere oggi e non preoccuparti del domani. Pazienza, quindi, è un'altra parola che significa lasciare andare la paura e la preoccupazione. Ricorda che siamo qui al tuo fianco per liberarti dalle tensioni e dallo stress. Basta che tu lo chieda. Grazie. Grazie a tutti. Apprendati. Apprendati. Ricordato. Grazie a tutti.